Una partita molto tattica, dove le difese erano molto aggressive, io ho fatto un po' di cambiamenti durante la partita, un po' uomo, un po' zona, un po' miste, loro erano molto aggressivi sui nostri tiratori, chiudevano gli spazi sulle penetrazioni come hanno fatto in tutte le altre due partite, quindi le difese hanno dato molta energia, si faceva fatica a trovare il canestro da tutte e due le parti, abbiamo tirato male da lontano, abbiamo fatto, non lo so neanche quanto, ma veramente male nel nostro percentuale da fuori, da sotto, poi sai quando arrivi punto a punto nel finale ti può andare bene, ti può andare male, a 40 secondi dalla fine sbagliamo un canestro un terzo tempo da sotto, da soli e poi prendiamo un canestro difficile di Simoncelli, quindi sul meno 3 abbiamo dovuto rischiare un po' sul tiro da 3 punti, perché oramai mancava veramente poco. e niente, ci rimbocchiamo le maniche per la gara 4, hanno vinto loro, quindi vuol dire che nel finale sono stati più bravi, cercando di arrivare qua con, di fare un po' più canestro, di essere un po' più tranquilli, anche alla fine, troppo nervosismo, vogliamo giocare più sereni, più tranquilli, perché non serve a niente, essere nervosi, non ti aiuta certo a segnare dei canestri, abbiamo giocato l'ultimo quarto punto a punto, quando arrivi a 40 secondi, che è la palla del sorpasso, costruisci un tiro da sotto e lo sbagli, cioè non è che voglio dare la colpa a chi ne ha sbagliato, cosa devo recriminare, avevamo subito 56 punti a 40 secondi dalla fine e quindi la difesa aveva fatto il suo, purtroppo l'attacco oggi non ha girato bene, ma non perché abbiamo sbagliato dei tiri facili, dei tiri da sotto, dei tiri aperti, li ha sbagliati anche loro, per l'amor di Dio, non è che, c'era molta tensione da tutte e due le parti, io gli ho detto che sul 2-0 la tensione noi non la dovevamo avere, invece ne avevamo troppa evidentemente e quindi dovevamo cercare domenica di essere meno nervosi, meno apprensivi, avere meno ansia e giocare più tranquilli, poi se entrano due o tre tiri in più da tre punti non mi farebbe schifo, però si poteva vincere anche stasera avendo segnato poco.